eccoci che siamo arrivati bene arrivati ciao buongiorno a tutti eccola la fondazione cetacea di riccione che sempre presente eccoci qua ciao ed è lei la regina la protagonista la protagonista mila bene possiamo andare a a a a a a a a buongiorno a tutti allora intanto grazie di essere qua siete tantissimi mi aspettavo questa accoglienza in questo meraviglioso posto devo dire e allora vi racconto un attimo per quale motivo mila è arrivata al nostro centro di recupero lei è arrivata esattamente il 14 ottobre e durante una mareggiata ovviamente il mare era troppo forte per lei che in quel momento aveva delle condizioni fisiche assolutamente molto debilitata molto magra ed era completamente ricoperta di parassiti sia nelle parti rigide quindi piastrone e carapace ma anche nelle parti molli quindi pinne e controllo e quant'altro quindi ovviamente era non era in forza e la parte del mare la scaraventata sulla battaglia a 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